Musica Doppio incidente sul lavoro ieri pomeriggio in provincia di Ascoli Piceno. A San Benedetto del Tronto un'operaia scolana di 48 anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona dopo essersi ferita all'avambraccio sinistro, rimasto incastrato in un macchinario. E' accaduto intorno alle 17.50 alla Promarche di Via Pomezia, fabbrica attiva nella produzione di vegetali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Porto d'Ascoli, anche un'ambulanza del 118. Vista la ferita piuttosto profonda, i sanitari hanno chiesto l'intervento di Icaro. La donna è rimasta sempre cosciente e ora le verifiche sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Coro unanime dei sindacati, Flai CGL, Fai CISL e Willa Willa di Ascoli Piceno, nel ribadire come la sicurezza di lavoratori e lavoratrici debba essere la priorità assoluta per tutti. Abbiamo un tavolo aperto di trattativa con l'azienda per il contratto aziendale. Ci prenderemo l'impegno di porre queste problematiche anche in quella sede, perché c'è bisogno di maggiore prevenzione e consapevolezza, fanno sapere i sindacati. Intanto torna la paura in A14. Nella stessa serata di ieri la richiesta di soccorsi è partita per un operaio di società autostrade rimasto ferito ad un piede mentre stava eseguendo dei lavori nei cantieri dell'A14. L'incidente si è verificato in una galleria all'altezza di Cupra Marittima. Le condizioni dell'uomo trasportato al Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto non sarebbero comunque gravi.